Buongiorno, buongiorno e ben trovati in questa edizione. La stagione di mattino 6, la nostra rassegna stampa. Il lunedì torna consueto, cui siamo stati abituati nella scorsa stagione perché sono ripresi i campionati, in particolare i campionati di Serie B, di Lega Pro e di Serie D, ma anche i campionati di eccellenza e promozione. Insomma, un accorpamento anche dovuto alle inchieste sportive che hanno fatto slittare, in particolare l'avvio del campionato di Serie B. Quindi, come tutti i lunedì, tantissimi servizi di riepilogo per vedere quanto accaduto ieri. Ebbene, non è stata una domenica positiva per i colori abruzzesi, specie in Serie B con le sconfitte di Pescara e Virtus Lanciano. Molto netta quella del Pescara, sconfitta nel finale invece per la Virtus Lanciano a Vercelli. Sorride in Lega Pro l'Aquila, bella e brillante affermazione sulla Pistoiese, mentre in Serie D il sorriso è solo quello del Chieti, del nuovo corso, con la nuova proprietà legata a Giorgio Pomponi. Il Chieti si è imposto su Lagnolese per 1-0, poi per il resto sconfitte per Amiternina e Giulianova. Il pareggio nella gara tutta abruzzese tra Avezzano e San Nicolò. Cercheremo di proporvi tutti i gol delle squadre abruzzesi di questi campionati. Prima ovviamente la nostra rassegna stampa che parte dai titoli di cronaca, intanto con alcune testate nazionali, poi arriveremo alle testate locali. E allora andiamo a vedere il giornale del lunedì. Lunedì Renzi, o con me o bestie, attacco disumano. Il premier alla festa del PD fa sciacallaggio sulle immagini dei profughi e insulta la destra. Berlusconi dice meno tasse e aiuti a chi ha bisogno. I fasti di un tempo da Arafat a Varoufakis ora a Cernobbio. I big sono un ricordo. Poi c'è l'editoriale di Vittorio Feltri in Parlamento. Dicono che i politici non facciano nulla. 55 proposte indecenti lo smentiscono. Titolo assolutamente ironico. Poi il controcorrente. Ecco le lauree che fanno diventare ricchi. Alcune facoltà garantiscono posti certi e stipendi sicuri. Poi si parla di un badante in Campidoglio. la vera storia dello Sbiro Gabrielli, il badante del Marziano Marino. In basso, finale di partita, l'Italia fa il suo dovere. Gli altri super team no. Il riferimento alla vittoria del nazionale azzurra sulla Bulgaria che avvicina l'Italia ai prossimi campionati europei. Andiamo a vedere ora la prima pagina del Fatto Quotidiano. I nostri prossimi 90 giorni. Il governo cadrà. Fazio replicherà Mike Buongiorno. Mafia Capitale svelerà altri scandali. Hillary Clinton riuscirà a candidarsi. Tutto ciò e altro. Musica e cinema, cultura, high tech. Si decide nei prossimi tre mesi. E noi ve lo raccontiamo. E poi sotto la testata. Festa dell'unità. Renzi usa i migranti contro la Lega. 5 stelle e minoranza PD. Marchionne lo celebra. Il migliore. I volontari. Il Papa in ogni parrocchio. Una famiglia di profughi. Corteo di auto verso Budapest. Record legale. Il regno più longevo. Elisabetta. Una regina da Guinness dei primati. Mercoledì prossimo sarà sul trono inglese. Da 63 anni. E 218 giorni. Uno in più della sua trisavola. La mitica Queen Victoria. E poi ancora in primo piano Pompei in coda davanti a uno dei più grandi sprechi. L'intervista Nibali ciclista per sbaglio e per noia. Andiamo ora a vedere la prima pagina del messaggero. Messaggero, prima pagina nazionale chiaramente. Eccola qui che la recuperiamo. Recuperiamo tasse, così i tagli alle imprese. Padoan annuncia nuovi interventi. Anticipo della riduzione Ires e sgravi più alti per chi investe. Incentivi per l'acquisto di macchinari. Fisco le entrate potranno nominare 580 semi dirigenti. Poi vediamo sotto la testata Venezia a Bigger Splash. Applausi e fischi al secondo film italiano. E verso l'Europeo basta un rigore di De Rossi. E prima di andare a K.O. la Bulgaria. L'editoriale di Mario Del Pero. L'idea di online. Guerra in Siria. La Francia eviti il bis della Libia. Poi c'è il Focus. Lavoro, i veri numeri. 338 mila occupati in più. E il braccio di fermo sulle riforme. Renzi avverte la sinistra PD. Niente veti. E alla destra siamo uomini non bestie. La fotonotizia. Un corteo per i profughi. Quote Cameron dice no. Volontari verso Budapest per recuperare i migranti. Appello del Papa. Ogni parrocchia adotti una famiglia. Lettera del capo della polizia alla UE. Regolari le nostre procedure. Piano Juncker. I sette punti da chiarire. Poi luce e ombre. I sogni del pontefice. E la realtà della Chiesa. Ora lasciamo le testate nazionali. Andiamo con il centro. Con la prima pagina del centro. Vediamo quali sono gli argomenti principali trattati dalle testate locali. Tari in 3.000 non hanno pagato. Pescara e i conti del comune non tornano. Mancano 850.000 euro. E poi la fotonotizia dedicata al disastro del Pescara. Come scrive il centro. Il Livorno fa poker con uomo in più. Esordio amaro per i biancazzurri. Alcuni richiami di cronaca. Sul lungo fiume spuntano scarichi abusivi. Allarme inquinamento a Pescara. Sempre a Pescara in via Vestina. Incegno Dolosso nel salone di automobili. All'Aquila l'evento. Ieri c'è stata questa sorta di maratona del jazz. Fiume di gente all'Aquila. E poi ancora in basso il Buongiorno Abruzzo di Giuliano Di Tanna. Per Katia una festa che scaccia i fantasmi. E poi vediamo appena sopra Svolta Buonista sull'accoglienza dei profughi. All'interno delle pagine del centro si parla di vino. In questa pagina della cronaca abruzzese. I primi numeri sulla vendemmia. 2,4 milioni di ettolitri nei tini abruzzesi. Le stime di assoenologi sui primi dati della raccolta dell'uva. Qualità buona. I prezzi penalizzano i prodotti generici. In basso vigneti, fondi alle aziende. Vende oltre 7 milioni per le riconversioni a 620 produttori. Poi la politica parla il leader regionale di Abruzzo Civico, Giulio Borrelli. Noi traditori poniamo temi reali e non di bottega. Finto richiamo alle urne. Se SEL vuole andare a votare si accomodi. Poi vediamo se col PD ma senza liste civiche. Tornerà al governo della regione. Poi ancora la cronaca di Pescara con l'argomento che ha dato il titolo d'apertura. Quello appunto sulla Tari. I conti non tornano. In 3 mila non hanno pagato. Mancano all'appello 850 mila euro all'incasso previsto nel bilancio del Comune. Oltre la metà dei contribuenti è ricorsa ai bollettini fai da te per i versamenti. Un ulteriore assunto sulla situazione della Tari è data da questa tabella con il gettito previsto entro la fine dell'anno. Oltre 23, quasi 24 milioni di euro. Il gettito accertato al 31 agosto 11 milioni di euro. E qual è il minore incasso per le prime due rate? 850 mila euro con 3 mila circa contribuenti che fino a non hanno ancora pagato. E poi ancora si parla di inquinamento. In questo caso dai lavori sul lungo fiume spuntano tre scariche abusivi. Gli operai scoprono enormi condotte fognari e fuori legge in 200 metri di strada. Adesso cresce il sospetto che possano essere causa di inquinamento del mare. Intanto il mare resta sporco solo in via Balilla. Le nuove analisi dell'Arta promuovono via Mazzini e Fosso Pretaro e del Vecchio revoca i divieti. La cronaca, la prostituzione dilaga in città, donne in strada anche di giorno. I controlli e le contravvenzioni non sono sufficienti a contenere il fenomeno in continuo aumento. Lungomare, Pineta, Università, le zone più frequentate alla stazione ci sono anche i transessuali. In basso, una speranza per lo sfrattato con tre figli. Comune e Ater promettono aiuti all'uomo che ha minacciato di darsi fuoco. Dilazioneremo i debiti. E poi ancora, restando in provincia di Pescara, nelle pagine del pescarese, folla e polemiche per il mercatino di Via Davalos. Grande partecipazione alla iniziativa di Confartigianato. Ma Fiorilli accusa che le auto circolavano in mezzo ai pedoni. Qui siamo sempre a pescare in basso questo articolo curioso a Civitella, Civitella Casanova. La rossicino dei record ha superato i 10 metri di lunghezza. Turisti in fila per assaggiare il maxi spiedino. E poi ancora, in questo caso siamo a Montesilvano. Sono incendiate le auto di un rimenditore, rogo doloso nella notte in Via Vestina, danneggiati due vicoli usati. In corso le indagini dei carabinieri. La pagina di Chieti. Mi hanno pestato, ho creduto di morire. Il racconto shock della titolare del disco pub Cohiba, presa a calci sabato da un gruppo di teppisti. Sono tutti dello scalo. L'agguato, la violenza del branco in Via Pescara. In basso a Bucchianico, tre nuovi religiosi nell'ordine dei Camigliani hanno preso i voti e si sono consacrati nel servizio ai malati. Mastro Cola è di San Martino. La pagina di Teramo, con il ritorno in classe e scuole, solo una su cinque è in regole. Il 22% degli edifici ha l'agibilità. Gli altri o non ce l'hanno o non sono obbligati ad averla, perché costruiti prima del 1970. L'anagrafe del Ministero, i dati del MIUR, per quanto aggiornati, non tengono però conto dei lavori completati di recente o che stanno per terminare. A Tortoreto, invece, scontro sui fondi pubblici alla scuola privata. Vedete una foto della scuola materna Bambin Gesù di Tortoreto Lido. In basso, ad Alba, vacanze più lunghe alle elementari. Lavori all'edificio di Via Duca d'Aosta. Il primo piano sarà pronto a fine mese, il secondo a metà ottobre. Andiamo a chiudere con la pagina aquilana e la maratona del jazz. Una marea di gente invade il centro. La musica che unisce Franceschini annuncia evento da ripetere ogni settembre, tanti concerti per tutto il giorno e gran finale con Gino Paoli. Qui vediamo la folla che ha partecipato alla maratona, uno dei tanti istanti della maratona. E poi, tra gli altri, l'esibizione di Gino Paoli in una di queste due foto. Possiamo lasciare il centro, andiamo a vedere il messaggero nelle pagine abruzzesi. Quindi andiamo con la prima pagina che tratta proprio l'argomento con cui abbiamo lasciato il centro. Jazz all'Aquila tutti gli anni. Grande successo per la maratona musicale. 50.000 persone affollano il centro. Il ministro Franceschini annuncia, lo rifaremo ogni prima domenica di settembre. Sotto la testata, il primato, prima campanella ad Avezzano, batte tutti. Oggi si torna già in classe. La piaga, tolti due divieti su tre, il mare di Pescara torna balneabile. Calcio di Lega Pro, l'Aquila, inizio fulminante, due euro, gol Pistoiese, K.O. Subito tre punti al debutto per il neotecnico Perrone. 1-2 in sette minuti, poi il rosso blu rimasto in dieci. Difendono una promettente vittoria. A Teramo scossa la movida con Villa Suite, ma più controlli. La fotonotizia sulla falsa partenza delle squadre di serie B, Pescara e Lanciano. Flop. E poi il commiato di Quarta, tre anni vivaci, ma regione sana. Passaggio di consegna al comando regionale, contrasto puntuale a tutti i reati. La cronaca a Ortona, vola a 17 anni dal motorino e batte la testa. È grave, incidente sulla Marrucina, la ragazza trasferita in elicottero a Pescara. Chieti, secchiata d'acqua per i decibel elevati. E poi ancora in basso il caso Lite a Padova, Aquilano pestato. All'interno del messaggero Abruzzo, andiamo a pagina 35. Il jazz fa vibrare l'Aquila a migliaia nel centro storico. Musica in ogni angolo, persino dalla cannoniera del forte cinquecentesco. Folla oceanica per la grande maratona nel cuore della città. Giornata memorabile nel segno della rinascita sociale dopo il sisma. Scoppia la lite in una discoteca, studente aquilano pestato a Padova. E poi ancora il blitz del ministro Franceschini con una promessa. Festival ogni anno, inizio settembre. Il ministro, a sorpresa, ha incontrato il sindaco Cialente. E poi la truffa a casa al mare a prezzi stracciati. Tre famiglie beffate online. E poi ancora ad Avezzano, scuola, oggi si riparte in tre istituti. Assemblea allo scientifico Poglione in un'aula magna piena con palmieri e i componenti dell'osservatorio di Credici. Mancano ancora alcuni dirigenti. La tempesta dei dubbi di chi oggi sale in cattedra per la prima volta. Tra giovedì e il 14 settembre torneranno sui banchi tutti gli altri studenti. A Pescara, sempre il mare, la balneabilità in primo piano. Mare pulito, tolti due divieti su tre. Riscontri favorevoli a via Mazzini e su Fosso Pretaro. Ancora oltre i limiti i dati verificati dall'Arta per via Balilla. Apri il cantiere, nuova condotta in via Raiale. Entro fine mese, danno d'immagine per la città, protestano gli operatori balneari. L'ordinanza è emessa quando l'emergenza era già rientrata, dice il vice sindaco del Vecchio, in risposta a critiche e polemiche. L'oro azzurro nel beach soccer chiude i giochi del Mediterraneo. Festa italiana anche nelle finali di Aquatron. Argenti dal volley prima del gran finale. E poi in basso, questa notizia particolare, contromano in auto su Via Venezia. Giovane teatino ubriaco denunciato. Andiamo avanti. A Chieti, spedizione punitiva contro la suocera. Dopo la sceneggiata è fuggito a bordo di una lancia Ypsilon. Sembrava una furia. Ha tentato anche di sfondare il portone di casa. La richiesta di soldi è il movente. Al lanciano, Tamburi e Chiarine. Ecco il mastro giurato. Ieri l'investitore di Franco Fanci e il corteo storico. E a Porta Pescara, a Chieti, un secchio d'acqua raffredda la Movida. A Teramo, in 3000, alla festa della villa, ma è polemica sugli alcolici. La consigliera comunale di Pasquale dice troppi minori con le bottiglie di birra. Gli organizzatori non hanno apprezzato. Serata tranquilla, nessuna vendita anomala. Critici alcuni cittadini su Facebook. Sporcizie e lattine gettate nel laghetto. A Montorio, i volontari festeggiano la piccola Katia. Poco più di una settimana dal ritrovamento della piccola di due anni e mezzo di Cusciano di Montorio. E poi a Giulianova, donna morta all'ospedale, sarà aperta un'inchiesta. L'anziana è assalita da un bulldog, è caduta e si è rotta un femmone. Lasciamo il messaggero, ci torneremo più tardi con le pagine di Sport. Andiamo ad aprire proprio l'ampia parentesi dedicata allo Sport con i titoli della Gazzetta e poi del Corriere dello Sport. Vi ripeto, abbiamo davvero tanti servizi da proporvi sulle gare giocate ieri dalle squadre abruzzesi di Serie B, Lega Pro e Serie D. Ieri però in campo, ieri sera c'era anche la Nazionale e il titolo d'apertura della Gazzetta è proprio dedicato all'Italia, che fa due passi avanti, 1-0 con la Bulgaria, migliore il gioco e ora siamo primi nel girone con due punti sulla Norvegia. A Palermo decide un rigore di De Rossi che poi viene espulso. Buon rientro di El Sharawi. Conte dice abbiamo dominato ma dovevamo segnare di più sotto la testata. L'altro grande evento di ieri con il Gran Premio d'Italia, Monza, Pettel da applausi, Masgomma Hamilton vince la Mercedes che rischia la squalifica per pneumatici non in regola. Ferrari seconda, falsa partenza di Räikkönen. Poi in vista del derby del prossimo weekend, Jovetic e Bacca attaccano il primo derby, il Montaglino ha già l'Inter in mano, il Milan punta sul colombiano. Juventus, Rombo o Ali, Bivio e Allegri tra Hernanes e Quadrado. Solidarietà, Pallotta lancia Football Curs, il calcio si muove per i migranti. In Serie B, Livorno partenza col botto e stasera tocca al Cagliari. Altri richiami, l'Eurobasket Italia, Brividi con l'Islanda, Gentile e Berinelli ci tengono su. US Open di tennis, Fognini dopo l'impresa con Nadal va fuori, battuto da Lopez, vinci ai quarti senza giocare. Poi ancora il calendario dell'A con anticipi e posticipi del girone d'andata. Serie D, Parma riparte, esordio e tre punti con un tifo da Serie A. Welta, Rodriguez, Shaw, Auru resta leader per un secondo. C'è ancora la montagna all'interno della Gazzetta dello Sport. Italia, il rigore e lo spreco, segna De Rossi, tanti gol buttati ma siamo primi. Il protagonista della serata, un po' sorpresa, è il Faraone, il Sharawi, il ritorno del Faraone, simbolo di una squadra in cerca di identità. Le parole del CT Conte, non solo gioia, Verratti deve crescere ma più rispetto per Pirlo. Parla anche Bonucci in difesa, è un gioco di parole perché difende in effetti De Rossi. Teniamo De Rossi nel bene e nel male, dice uno dei leader della difesa azzurra, appunto, Leonardo Bonucci. Sempre per il girone dell'Italia, sorpasso Norvegia, un super Berger affonda la Croazia. Doppietta del sorprendente centrocampista, Maggiuk, Perisic e compagni frastornati. Ora sono terzi. Andiamo avanti con la crisi dell'Olanda e l'Islanda che è praticamente dentro l'europeo, Turan cancella l'Olanda, l'Islanda che favola a Reykjavik, festa qualificazione, prima volta nella storia. Andiamo a vedere ora le pagine dedicate alla Serie B per vedere insomma come vengono trattati gli argomenti relativi alla prima giornata di campionato. Ecco qui, c'è Allegri, il Livorno si scatena la rivincita di Panucci su Oddo, vantaggiato con De Gaulle, trascina la squadra contro un Pescara. subito in dieci è inguardabile, dunque tranciante il giudizio della Gazzetta sulla partita di ieri del Pescara. Come possiamo vedere dai voti davvero non si salva nessuno, tanti quattro addirittura per Bonoza, Fornasier, Valotti e Caprari, quattro e mezzo Fiorillo, quattro e mezzo Zampano, insomma una vera e propria ecatombe per la squadra bianca-azzurra. fioccano invece i bei voti per il Livorno, tanti di sette, sette e mezzo, i migliori sono Ceccherini, Fedato e soprattutto Vantaggiato, che prende un bellotto in pagella per lui una doppietta. Ecco qui il migliore, proprio Vantaggiato. Andiamo a vedere l'articolo che riguarda la sconfitta del Lanciano. Castiglia entra ed accende la Pro, Lanciano K.O. in dieci minuti. i migliori in campo è Gatto, il fratello dell'ex giocatore del Lanciano, ora al Vicenza. Massimiliano Gatto, torre dell'1-0, sette e mezzo nella Virtus Lanciano. Tra i migliori c'è Zé Edoardo, sei e mezzo, con Ferrari, cinque per Bacinovic che è stato espulso. Quell'espulsione ha pesato nel computo della partita. E poi le partite più attese, festa salerintana con Gambionetta, Vellino battuto e Arechi record davanti a 22.000 spettatori. Granata conquistano il derby. Trotta fa 1-1 ma poi gli ospiti crollano. A Bari questo incredibile 4-3 per il Bari sullo Spezia. Quante emozioni di Luca Magnero e il Bari in dieci gode. Spezia che crollo, i due attaccanti esaltano Nicola, i Liguri sotto 2-0 vanno sul 3-2. Ma poi si arrendono. Andiamo a vedere ora anche il titolo sul Cagliari che giocherà questa sera la grande favorita del campionato. Un Cagliari di gladiatori pronti a scalare la B. Questa sera il debutto con il Crotone. In Lega Pro per Gattuso, buona la prima. Al Pisa 8.000 applausi, il Prato si sveglia tardi. Finisce 2-1 per il Pisa che va in gol con l'ex Chieti Lanciano Verna. E anche con il gol di uno dei pezzi pregiati del mercato, ovvero Lupoli. Quindi buono il debutto per Gattuso. Buono però anche il debutto dell'Aquila che parte a tutta protezza di Mancini. La Pistoiese dura poco. Migliori in campo proprio Manuel Mancini. Per lui 7,5. 7 anche per San Domenico. Zandrini e Maccarrone si salvano in pochi nella Pistoiese. Un ultimo titolo che andiamo a vedere sulle due pagine relative al Gran Premio di Monza. E sempre Lewis anche sotto pressione. Hamilton dominio con festa subiudice. Fettel si gode Monza. La Fia congela per tre ore la vittoria dell'inglese per problemi legati alle gomme. Poi l'ok. Seb è secondo. Ma io non capivo quei messaggi via radio dal box. Ed eri dato l'invito a spingere di più. Pensavo a una penalità. Wolf dice. C'è il lavoro in accordo con Pirelli. Seb parla dunque Fettel. E un secondo posto che vale come una vittoria. La gioia del tedesco che per i tifosi fa la ola con la bandiera del cavallino. Solo un po' di amare in bocca. Sarebbe stato bello vedere Kimi sul podio. Ci fermiamo con la Gazzetta dello Sport. Andiamo a salutare, a dare il buongiorno a Giovanni De Palma di Abruzzo Meteo. Buongiorno Giovanni. Buongiorno Andrea. Buongiorno a te e a tutti. I telespettatori. E allora subito le ultimissime sul fronte meteo. Ma diciamo che la settimana si apre sì con un tempo migliore rispetto a quanto abbiamo avuto soprattutto nella giornata di sabato. Tuttavia nelle prossime ore continueranno a manifestarsi degli annuvolamenti sul settore centro-orientale dove localmente potrà verificarsi qualche precipitazione. Però più probabile sulle zone montuose e soprattutto nel corso del pomeriggio. una situazione simile anche nella giornata di martedì. Ma dalla serata è previsto un graduale nuovo aumento della nuvolosità perché il tempo tende a peggiorare soprattutto al meridione. Ma questa nuvolosità, vista in intensificazione soprattutto al meridione, tenderà poi ad estendersi anche verso la nostra regione. Probabilmente tra mercoledì e giovedì tornerà a peggiorare il tempo sulla nostra regione. Ci saranno delle precipitazioni e aumenterà decisamente l'instabilità perché successivamente tra giovedì e sabato arriveranno delle masse d'aria fresca dall'Europa centro-settentrionale. Ciò favorirà appunto un'ulteriore intensificazione dell'instabilità sulla nostra regione. Quindi insomma il tempo non migliora decisamente, anche se tra oggi e domani comunque ci saranno ampie zone di sereno e le temperature sono previste nel lieve aumento soprattutto nei valori massimi. Ma rispetto ai giorni scorsi sono sensibilmente diminuiti i valori. Quindi insomma siamo arrivati, abbiamo raggiunto temperature più vicine al periodo autunnale. Quindi ripeto attenzione al peggioramento che probabilmente si manifesterà tra giovedì e sabato perché insomma instabilità e ampie zone di sereno con temperature massime nel temporaneo ma graduale aumento Andrea. Senti Giovanni, prima di congedarti non posso non farti una domanda come sempre faccio sul Pescara che è partito con questa scoppola, te l'aspettavi? Sinceramente no, nel calcio si può anche perdere ovviamente ma ieri non mi è piaciuto soprattutto l'atteggiamento della squadra. Praticamente la squadra non è scesa in campo a mio avviso con errori glossolani a partire da quello di Caprari che ha scaturito l'espulsione del calcio di rigore ma poi la difesa è stata imbarazzante in diverse occasioni perché se vantaggiato da un lato è un giocatore molto bravo tecnicamente, non può fare quello che vuole in area di rigore saltare due o tre giocatori e mettere la palla in rete. Questo non può e non deve accadere e quindi ha ragione il mister ad arrabbiarsi. Ma diciamo, prendiamolo come un incidente di percorso pur con le attenuanti che aveva il Pescara ma a me non piace parlare di attenuanti. Guarda soprattutto alla cattiveria che è mancata soprattutto a questa squadra perché non si possono far vincere dei contrasti così facilmente ai giocatori avversari perché non si va lontano, i gol poi si prendono. È chiaro che poi la partita ieri è stata penalizzata dall'espulsione, non avevamo più l'attacco, poi ovviamente formazione decisamente rimaneggiata per le assenze e per il fatto delle nazionali. Io penso comunque che deve riscattarsi questa formazione, avrà l'occasione di farlo venerdì perché ha tutti i mezzi per farlo. Ma ripeto, è mancata la cattiveria che deve per forza avere questa squadra se vuole puntare in alto, Andrea. Bene, ti ringrazio Giovanni, ti auguro una buona giornata. Grazie Andrea, una buona giornata anche a te e a tutti gli aspettatori di TV6. Grazie, grazie a Giovanni De Palma, Corriere dello Sport rapidamente, la prima pagina. Avanti Italia, un ricorre di De Rossi, poi espulso, piega la Bulgaria. Siamo in fuga nel girone, Francia 2016 a un passo. Si è vista la mano di Conte, il commento di Alberto Polverosi. Sotto la testata, spazio alla Serie B, Bari in presa in 10, Salerno è uno show sotto 3 a 2, con il nome in meno i pugliesi abbattono lo Spezia, derby campano a Torrente, Avellino, K.O., Trapani, un bel tris, che spettacolo questa Serie B di Stefano Agresti. Poi alcuni richiami, Inter, Mancini il più vincente nei minuti finali, il Milan studia per diventare tutto italiano, l'ex camoranesi lancia la Juve, la favorita. In basso, Hamilton con il giallo, ma è delirio Vettel, quanta emozione davanti a questi tifosi. Eurobasket, riscatto Italia, però che fatica per battere l'Islanda. Entriamo all'interno del Corriere, andiamo subito a pagina 16 e 17 per vedere i titoli sulle squadre abruzzesi. Il Lanciano cede a Castiglia, resta in 10, la Provercelli ne approfitta e raddoppia nella Virtus Lanciano. Diverse insufficienze si salvano in pochi, 7 e mezzo per il Vercellese Gatto. Per quanto riguarda il Pescara, un Pescara da incubo, subito in 10, il Livorno dilaga. Il portiere Fiorillo espulso dopo appena 4 minuti, abruzzesi travolti da vantaggiato, bis, Ceccherini e Fedato. Dice il tecnico Oddo, niente da salvare. Prima di lasciare il Corriere dello Sport e andare in pubblicità, vediamo la pagina dedicata all'europeo di basket. Super gentile, l'Italia vince solo allo sprint, male in difesa anche contro l'Islanda. Decidere sono Lala, 21 punti e Aradori. È successo 71 a 64, Gallinari in ombra, da Tome finisce KO, problemi a linguine. Azzurri a riposo sopra di soli 4 punti. A 4 minuti della fine Stefanson e company sono avanti di 1, poi un 10 a 0 che regala la vittoria. Servono più sacrifici, il commento del coach azzurro, Pianigiani. E domani c'è la sfida alla supercorazzata Spagna. Ci fermiamo, andiamo in pubblicità, poi rientriamo. Vi ripeto, tanti servizi da vedere per noi a tra poco. Eccoci rientrati, di nuovo buongiorno e bentrovati con la seconda parte di Mattino Seri. Riprendiamo la nostra rassegna stampa, abbiamo tanti servizi da proporvi. Ripartiamo dal centro, Pescara e Lanciano. Così non va, Oddo dopo il tonfo di Livorno, nulla da salvare, da Versa, i giovani devono crescere. Nel Lega Pro, due reti alla Pistoiese, buona la prima, l'Aquila cancella. La penalizzazione sul fronte Teramo, Teramo che ieri non ha giocato la prima di campionato ad Ancona. Vivarini verso il sì al Teramo, ma vuole rinforzi. Sul fronte direttanti, Serie D, sorride solo il Chieti, pari nel derby. Giulianova, K.O. Affano, eccellenza, Pineto e Sanzalvo partono alla grande, Lavastese a picco. Promozione, Notaresco e River 65 ricominciano con il piede giusto. Andiamo a vedere le pagine sul Pescara, sia del centro sia del messaggero, prima di andare a vedere il servizio e le interviste dal Picchi di Livorno. Avvio da incubo, Pescara, ma che combini? Quattro sberle dal Livorno, ha espulso Fiorillo dopo quattro minuti, Biancazzurri travolti in Toscana con l'uomo in meno, Delfino impalpabile sotto lo sguardo attento in tribuna del tecnico della Juventus, Allegri, l'espulsione del portiere ha condizionato la gara, ma la difesa è stata davvero imbarazzante, il centrocampo mediocre, in avanti Caprari non è mai riuscito a rendersi pericoloso. Esordio shock, mai così male in Serie B. Questa sconfitta appunto con quattro gol di scarto. Le parole del tecnico Oddo, nulla da salvare ma non facciamo drammi, contrariato a fine gara, l'espulsione di Fiorillo dopo pochi minuti ci ha messo in difficoltà, niente alibi ma alcuni gol andavano evitati. Le pagelle ovviamente risentono di quanto visto ieri, come vedete, tanti cinque, quattro e quattro e mezzo, il peggiore secondo il centro è Fornasier, quattro, quattro e mezzo anche per Bunoza, quattro e mezzo anche per Caprari. Ci sono le parole dello stesso Gianluca Caprari che dice ho sbagliato, ora testa al Perugia, l'ex Roma protagonista in negativo nell'azione che ha portato all'espulsione di Fiorillo. Valotti rialza il Pescara, incapaci di reagire, il nostro campionato inizierà venerdì sera. Eccolo qua Massimiliano Allegri, ieri sugli spalti in tribuna all'Ardenza per assistere alla partita. Giocata una gara con intelligenza, dice il tecnico di casa. Cristian Panucci, andiamo a vedere ora il messaggero che titola così. Il Pescara fa subito crack, travolto 4-0 all'esordio sul campo del Livorno, decisiva all'espulsione di Fiorillo dopo sei minuti. Pessima prestazione di squadra ma soprattutto preoccupa la grande fragilità difensiva. assenze e uomini in meno sono un attenuante ma non basta per i padroni di casa anche un palo e un gol annullato. Le pagelle Fornasier e Bunosa, giornata da dimenticare, nessuna sufficienza dopo una gara nella quale i biancazzurri non sono mai esistiti. Per il messaggero 4 per Bunosa e 4 per Fornasier. Andiamo quindi a vedere il servizio della partita e poi le parole del tecnico Massimiliano. Oddo. Il Livorno come nelle migliori tradizioni consuma una vendetta freddissima e fa pagare al Pescara con gli interessi la qualificazione ai play-off ottenuta a fine campionato scorso ma la partita del picchi ha un sapore diverso da quella giocata all'Adriatico qualche mese fa. Davanti all'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri Oddo presenta ai nastri di partenza un Pescara in piena emergenza con ben 11 assenze e una squadra messa su con tanti giovani. Le cose erano già difficili in partenza, figuriamoci se dopo 4 minuti una palla regalata da Caprari a Fedato innesca l'attaccante Amaranto che si presenta da solo davanti a Fiorillo. Uscita a valanga e fallo da rigore con relativa espulsione del portiere del Pescara. Dentro Aresti e fuori Vukusic, prima della battuta impeccabile di vantaggiato con Aresti battuto e gol del vantaggio labronico. La partita già difficile diventa quasi impossibile per il Pescara che in dieci fa fatica a riorganizzarsi. Il Livorno intuisce le difficoltà pescaresi e vuole chiudere la gara. Al ventesimo Amaranto vicini al raddoppio con Luci che dal limite becca l'angolino buono ma il palo dice di no. Sulla mischia che si accende la difesa libera in affanno. Un giro di lancette vantaggiato serve a Pasquato la più ghiotta delle palle da mettere in porta. L'ex pescarese è però lento nel girarsi e viene chiuso da Fornasier. Il Livorno troverebbe il gol del raddoppio al ventiseiesimo su punizione di Pasquato e tocco di Morelli ma l'assistente segnala un fuorigioco dubbio e l'arbitro annulla. Ma il 2-0 è questione di minuti e il trentatreesimo quando vantaggiato riceve in area, controlla e tira in diagonale. Aresti tocca con la punta del piede ma non basta per evitare il raddoppio labronico. Il Pescara esce da una scena nella quale non era mai entrato e il Livorno ne approfitta. Al quarantesimo Fedato si ritrova tu per tu con Aresti che gli chiude lo specchio della porta e mette in angolo. Sulla battuta il colpo di testa vincente di Ceccherini che insacca sul secondo palo il 3-0. I titoli di coda della partita scorrono già nell'intervallo. La ripresa è solo una lunga agonia pescarese con il Livorno che trova il quarto gol confedato all'ottavo grazie a un regalo di Fornasier che lascia rimbalzare il pallone favorendo l'inserimento dello stesso Fedato che batte ancora Resti. Da lì in avanti il nulla assoluto se non l'esordio di Testi e Forte con la maglia del Pescara. Dal Perugia in avanti però sarà un'altra musica con altri orchestrali. Prima giornata di campionato inizia con questo risultato che potrebbe far preoccupare chi non ha visto la partita ma non crediamo che sia così per odio. Stiamo calmi. Quando dopo 5 minuti rimani 10 è difficile, è molto difficile. Sicuramente il risultato potrebbe essere meno rotondo se avessimo evitato qualche errore di troppo che abbiamo fatto però al di là di quello si è scombussolato tutto dalla nostra partita, la preparazione della nostra partita, agli avversari, al cambio di modulo obbligatorio fatto quindi quando tu lavori da due mesi su un modulo e dopo 5 minuti non lo puoi fare più inevitabilmente poi ti condiziona tutto però merito al Livorno facciamo finta che la partita inizia da venerdì. No, non sono preoccupato perché io ho fatto il calciatore alla prima partita di campionato Tutte le squadre, non dico il Pescara, tutte le squadre non possono essere al 100% e parlo di condizione fisica quando si rimane in 10 c'è solo una cosa da fare, correre più degli altri e in queste condizioni dove tu non sei al 100% con un caldo così abbiamo trovato anche una squadra che ha fatto un buon processo che ci faceva correre per il campo, diventa veramente difficile insomma Cosa non le è piaciuto a parte questi episodi iniziali che ha certo condizionato la partita? Qualche errore dei singoli in fase difensiva? Qualcosa sì, sicuramente si potevano evitare un paio di gol, prendere gol sul palline attiva non mi piace per niente Miglioreremo sicuramente, qualche palla libera dovevamo scappare prima come in occasione del quarto gol credo ma la cosa che mi infastidisce di più è che un giocatore non può vincere 3 contro 1, un contrasto davanti al limite dell'area quello non lo si può accettare e mi fa innervosire particolarmente Riprendiamo e parliamo di Virtus Lanciano dalla pagina del messaggero Lanciano un rosso fatale in genuità di Bacinovic con la Virtus risalita dopo lo 0-1 firmato da Gatto La Pro Vercelli castiga i rossoneri al 79esimo Da Versa Nero sapevamo che sarebbero andati a sinistra In basso dicecco a ragione il mister quando si resta in 10 non bisogna perdere per forza Ferrari pareggio inutile, ci siamo scoperti sul lato di Scaglia Il centro, vediamo i titoli del centro sulla sconfitta della Virtus Lanciano Lanciano cade dopo il rosso a Bacinovic Una buona Virtus tiene il campo fino all'espulsione del centrocampista sloveno nella ripresa Poi decide Castiglia, i frentani tengono bene nelle retrovie in mezzo al campo ma difettano di incisività Negli ultimi 20 metri, Rozi delude e viene sostituito nell'intervallo da Lanini Gatto sblocca il risultato nel secondo tempo, il pari di Ferrari e quando la squadra di Da Versa sembra poter controllare la gara Arrivano gli episodi decisivi Siamo caduti nel momento migliore, commenta così il tecnico da Versa Che dice che devono prendere esempio dei cosiddetti vecchietti del gruppo Ancora una volta da Versa manda delle stoccate ai giocatori più giovani Lo ha fatto anche nel corso del mese di agosto durante la preparazione E contro l'Ascoli tornerà piccolo Poi ci sono le valutazioni, le pagelle con alcune insufficienze In particolare ad Aquilanti e Mammarella Soprattutto quelle nei confronti di Bacinovic, 5 e Rozi 45 minuti davvero impalpabili per il giocatore Scuola Lazio 5 anche per Di Francesco, 6 per l'autore del gol Ferrari Allora il servizio di Alessio e Giancristoforo sulla sconfitta della Virtus La Virtus Lanciano perde la sua gara d'esordio nel quarto campionato di serie cadette Già questa è una notizia perché non era mai avvenuto prima Alla meglio la Provercelli che si impone per due gol ad uno In una gara nella quale i frentani commettono due errori che pagano a caro prezzo Il primo sul gol del vantaggio di Gatto sul finire di prima frazione di gioco Il secondo l'espulsione di Armin Bacinovic Evitabilissima che lascia la squadra in 10 al 21esimo della ripresa Esattamente 10 minuti dopo il pari di Ferrari E con mezz'ora ancora da giocare D'Aversa sceglie Ferrari come punta centrale con Di Francesco e Rozi A supporto, modulo speculare per la Pro di Scazzola Con Scavone quantitativamente decisivo E Rossi bravo ed abile ad inserirsi tra le linee Il primo acuto è della Pro, maridità para Scavone mette subito in difficoltà Bacinovic Che rimedia il primo giallo da parte di Rapuano di Rimini All'esordio in serie cadetta Tocca quindi a Zedoardo con un tiro da fuori aria Ma Pigliacelli al minuto 18 para Poi un momento propizio ai padroni di casa Quattro corner consecutivi Ma la Virtus gestisce comunque bene questa fase E infatti i frentani hanno l'occasione più importante per andare in rete Scavone blocca Di Cecco E Rapuano concede il calcio di punizione dalla cosiddetta zona mammarella L'esecuzione proprio del capitano ed è quasi perfetta Ma la palla schiaffeggia l'incrocio dei pali Al trentottesimo Rossi smarcato da Di Roberto Stava per sorprendere la Virtus ma non va Va invece per la Pro sul finire di prima frazione di gioco Quando Gatto sembra uno slalomista e senza trovare opposizione Si ritrova in area di rigore e calibra un tiro che supera aridità Tra primo e secondo tempo D'Aversa lascia negli spogliatoi un opago Rozi Poco servibile ma anche poco servito Inserisce la Nini la Virtus e più dinamica Spigliato Federico Di Francesco che tenta un paio di soluzioni Prima del pari che arriva all'undicesimo Pari innescato da Zé Duardo che offre un pallone d'oro all'ex modenese Nicola Ferrari Che non si fa pregare per spingere in rete La palla 1-1 propizio il momento per il Lanciano Nonostante un gol annullato per fuorigioco di Marchi su Mammarella Al 21esimo però il Lanciano si complica le cose Spulso Bacinovic che lascia la squadra in 10 per un fallo di mano Cose che inevitabilmente si complicano Come del resto inevitabilmente D'Aversa deve apportare dei correttivi al modulo tattico Ecco quindi l'ingresso di Paghera per Di Francesco 4-5-1 dunque ma il pari non ha vita lunga perché Castiglia è abile a sfruttare un suggerimento dalla Corsea E a superare Mammarella e quindi a spingere la palla in rete oltre le spalle di Vincenzo Aridità Lanciano comunque che non molla ci prova Lanini a mettere al centro dell'area per Ferrari Ma la Pro libera sul finale di Contesa Entra Padovan per Zé Eduardo ma la punta della Juventus non può fare miracoli nel finale Di gara Beltrame poi mette in difficoltà i frentani ma non c'è più tempo dopo 4 minuti Di recupero finisce 2-1 per i padroni di casa con la Virtus Che inizia a prepararsi per il prossimo appuntamento casalingo contro l'Ascoli Sabato 12 settembre una gara che i frentani vogliono vincere Lega Pro dal centro Vivarini si convince con rinforzi di qualità Il tecnico è disposto a arrestare ma chiede un progetto valido Oggi potrebbero arrivare dal pescare i giovani Monni e Paolucci Ci piace anche la punta Cappelluzzo No per Forte e Vitturini E poi ancora l'Aquila in 10 le suona la Pistoiese Nel giorno della maratona Giasi i rosso-blu chiudono la pratica nel primo tempo Con San Domenico e un euro-goal di Mancini Per Rone sta nascendo un bel gruppo Il tecnico rosso-blu pensa già ad Arezzo E Mancini per il gol ringrazia De Sousa Vediamo anche il messaggero sulla vittoria dell'Aquila L'Aquila due lampi che bella musica nel giorno della maratona Giasi Anche qui si torna a fare questo accostamento Due solisti d'eccezione fanno godere i rosso-blui 2-0 matura nel primo tempo Poi in 10 ripresa di sofferenza ma senza scosse Sfruttate bene le fasce Peccato per Ceccarelli Per Rone vittoria meritata L'avversario era molto tecnico Mancini sento fiducia Così è tutto più facile Allora il servizio sulla bella vittoria dell'Aquila Sulla Pistoiese Una vittoria di cuore L'Aquila di Carlo Perrone non stecca l'esordio in campionato Contro la Pistoiese E porta a casa i primi tre punti stagionali Mattatori di giornata Salvatore San Domenico E Manuel Mancini Migliore in campo e autore di un gol da Cineteca Sì sono veramente contento La prima iniziamo subito bene Speriamo di continuare così Per la prima al fattori Perrone opta per il solito 4-3-3 visto all'opera nel precampionato Davanti al portiere Zandrini la novità in difesa è l'esordio dal primo minuto del ritrovato Maccarone In attacco confermato il tridente composto da Ceccarelli, De Sousa e San Domenico All'inizio più Pistoiese che l'Aquila Al decimo lo Sicco scalda i guantoni a Zandrini Ma sarà l'unico vero tiro dei Toscani per tutto l'arco della contesa Passano i minuti e l'Aquila aumenta pian piano i giri del motore Da affinare ancora i sincronismi a centro campo Ma la voglia e la dedizione non mancano In sette giri di lancette il match prende la sua piega definitiva Al minuto 37 Ceccarelli sull'out di sinistra si guadagna una preziosa punizione da posizione defilatissima Si incarica della battuta San Domenico Che invece di crossare nel mezzo batte direttamente in porta sorprendendo Gianna Rilli sul suo palo 1-0 l'Aquila con il solito San Domenico che riprende dove aveva lasciato lo scorso anno Quando con nove reti chiuse al primo posto dei cannonieri rosso-blu Parabola da riammirare quella dell'esterno napoletano al primo gol in campionato Passano pochi giri di lancette e l'Aquila bissa il vantaggio Stavolta fa tutto Manuel Mancini che si beve in tunnel Taddei prende il compasso e disegna una parabola alla del Piero che si inzacca sotto il sette Euro goal di Mancini che fa spellare le mani al tifo aquilano Sembra fatta ma le insidie sono dietro l'angolo Ad inizio ripresa ecco la complicazione che non ti aspetti Al quarto d'ora Ceccarelli già munito interviene da dietro sul diretto marcatore Finisce anzi tempo sotto la doccia L'Aquila in 10 è pronta alla sofferenza Perrone ridisegna la difesa passando al 5-3-2 con l'ingresso di Sagni per il sacrificato San Domenico La mossa funziona, la Pistoiese fa possesso ma non trova sbocchi L'Aquila soffre, difende con diligenza e alla fine mantiene il doppio vantaggio C'è ancora tanto da migliorare ma il cuore e il sacrificio non sono mancati E questo per i tifosi aquilani vale più dei tre punti portati a casa Carlo Perrone nel dopo partito Perrone alla vigilia aveva parlato di cuore negli scarpini Sembra che l'hanno presa alla lettera Insomma ragazzi tanta sofferenza ma quanto è importante questa prima vittoria? Sono tre punti però tutte le partite da qui alla fine hanno sempre in palio tre punti Cominciare bene è importante un po' per tutto perché comunque piano piano bisogna ricostituire dell'entusiasmo nella città E poi soprattutto i risultati ti aiutano a affrontare meglio la settimana A lavorare con più col sorriso diciamo sulle labbra E soprattutto a prendere consapevolezza che il gruppo è un gruppo che può fare bene E ora riprendiamo dal messaggero con la serie D Arrivi Amitarina trafitta all'ottantatettesimo dopo il pari di Torbidone Sconfitta 2-1 contro il Monticelli del Duca di Ascoli Un Giulianova troppo fragile si arrende a Fano 3-1 Poi il confronto tutto abruzzese di Avezzano Bel derby è un punto a testa Finisce 1-1 La sfida tra Avezzano e San Nicolò decidono le reti messe a segno da Moro e Margherita Gli ospiti si confermano squadra solida ma i biancoverdi recriminano per un palo di Digevanova E' un'occasione finale La matricola marsicana non sfigura nel finale Arriva vicinissima a centrare i tre punti Allora vediamo subito i servizi relativi alla vittoria del Chieti Di misura sull'Agnonese E poi il pari tra Avezzano e San Nicolò Puntare sulla passione del tifoso Riconquistare la fiducia del tifoso Con un mix di calciatori esperti e giovani promesse Così si presenta il nuovo patron della Chieti Calcio Giorgio Pomponi Che punta la vittoria del campionato di serie di Girone F Che inizia con l'esorgio casalingo di Nero Verdi Di fronte alla ripescata olimpia agnonese Allenata da Silvio Paolucci L'anno scorso sulla panchina della San Bernettese Con trascorsi in C1, C2 a Como, Chieti ed Aprilia L'obiettivo dei molisani è quello di raggiungere una salvezza tranquilla Soddisfazione nel team agnonese Per un mercato di ottima qualità Che ha saputo coniugare l'esperienza E calciatore baby di sicuro interesse Così come la squadra di Donato Ronci Rinnovata totalmente con calciatori desiderosi Di ben conquistare stima e fiducia Della platea sportiva teatina All'applauso dei mille spettatori dell'Angelini Risponde con il fischio d'inizio Il signor Gabriele Cascella della sezione arbitrale di Bari E la squadra di Ronci fa capire che non ha alcuna soggezione emotiva Anzi, prende subito l'iniziativa Accelera il gioco Pressa l'area molisana Scarsa la concentrazione mentale di Granata Che su calcio d'angolo al terzo minuto Incassano la prima marcatura Con Varone Che di testa si fa apprezzare per il gesto tecnico Gli ospiti soffrono un po' Con la percussione del Chieti Che agisce con velocità di esecuzione Al tredicesimo del grosso Taglia ancora l'area molisana Anticipo dell'estremo difensore Mancino Due minuti più tardi ancora applausi per i neroverdi Suriano dalla distanza Impegna seriamente l'attento portiere Granata Straordinaria la vitalità degli uomini di Ronci Che cercano il raddoppio con Dos Santos di testa E poi al ventiduesimo ancora Suriano In fiamma L'Angelini Non ci sono parole Le immagini di Claudio Di Giacomo Sottolineano il gesto tecnico dell'attaccante Teatino Vari sono i tentativi dei molisani Di aggirare gli abruzzesi Che non demordono La gara offre emozioni a Raffica E così la squadra di Paolucci Confeziona la prima nitida occasione Traversone di Di Lollo E Fatone Distinto Anticipa il tiro a rete del difensore molisano Carpentino Chieti che riparte guadagnando spazi offensivi E al trentaduesimo sempre Suriano Di poco manca il raddoppio La partita scorre agonisticamente Molto bella ma anche tecnicamente è assai piacevole Quarantatresimo Possibilità per gli ospiti di allertare la difesa a neroverde Sul calcio di punizione Ma non sono sorretti dalla dovuta convinzione La prima fase dell'incontro si conclude con il Chieti Subissato dagli applausi dei tifosi Con De Clemente che d'impeto sorprende il portiere avversario E scarica verso la porta di Mancino Senza gonfiare la rete La ripresa non registra mutamenti nelle formazioni Che si fanno apprezzare per l'agonismo incessante Al quinto il signor Cascella spia bene L'incursione di Conte che lo ammonisce per simulazione Ronci reclama di non abbassare la concentrazione La raccomandazione arriva puntuale In quanto Fatone all'undicesimo commette una ingenuità Che potrebbe compromettere quanto di bello organizzato Fin qui dai padroni di casa Che continuano a giocare in modo armonico Ma a che a volte peccano di incisività Nel presidiare gli spazi nevralgici di manovra Permettendo ai Granata di esprimere un gioco più convincente Al ventunesimo Suriano non perde la determinazione Di verticalizzare l'azione offensiva E mira verso la porta ospite E' evidente che la morsa del Chieti si è alleggerita Le forze vengono meno Ma la convinzione mentale non deve cedere il passo Alla affidabilità della grinta dell'Agnonese Che non riesce a penetrare nell'area teatina Ed ecco che al trentaseesimo L'attacco Granata sbilancia la retroguardia nero-verde Ma non c'è la necessaria lucidità per finalizzare Al quarantesimo ci si rinfranca con qualche energetico E Ronci congeda l'applauditissimo Suriano Al suo posto esposito con il preciso compito Di tenere palla in fase offensiva Al quarantaquattresimo Chieti in dieci Rovinoso intervento di Dos Santos su Di Lollo Censurato dal direttore di gara Dopo quattro minuti di recupero La vittoria dei teatini viene sancita Con un lungo entusiasmante tripudio Senso del collettivo e ordinata organizzazione del gioco Degli abruzzesi Caparbietà ma non sempre l'idoneo tempismo Dalla parte dei molisani Che lasciano a testa alta lo stadio Angelini Termina in parità 1-1 il primo derby abruzzese Stagionale del Girone F Che ha visto di fronte il neopromosso Avezzano Ed il San Nicolò di mister Massimo Epifani Al De Marsi Biancoverdi e Biancazzurri Si sono affrontati a viso aperto Offrendo però 90 minuti non proprio entusiasmanti Almeno sotto l'aspetto del gioco Si comincia con le due squadre al centro del campo Con le maglie dell'Avis Per sensibilizzare alla donazione del sangue L'avvio è equilibrato e con pochi acuti Al quarto d'ora c'è un tiro della Vezzanesse La Rosa Che chiama ad una parata di ordinaria amministrazione calore Al ventottesimo azione insistita del marsicano Gabriele Puglia Che arriva ai 25 metri trovando però poi sulla sua conclusione Una deviazione in angolo La gara stenta a decollare con i padroni di casa Più manovrieri e gli ospiti di Epifani Pronti a sfruttare il contropiede Al trentottesimo Dorazio atterra in area di Massimo Rigore netto che Moro trasforma per l'1-0 La risposta della squadra Terraman arriva al quarantaduesimo Con una conclusione al volo in area di Merlonghi Che da posizione defilata mette sull'esterno della rete Nella ripresa il primo acuto è della squadra di Lucarelli Con Puglia che si gira bene concludendo però centralmente Il San Nicolo non è in giornata di grazia Ma ci pensa al ventiduesimo l'ex Terramano Margarita Da quasi 30 metri con un euro goal A rimettere la gara sui binari della parità Tutto da rifare per l'Avezzano Che al ventisettesimo si rivede con Moro Che da posizione quasi impossibile Cerca di sorprendere Calore con una girata Che non inquadra lo specchio della porta Il finale di gara vede il lampo del trentottesimo Con il palo del neoentrato di Genova Che di testa impatta bene trovando il legno Su perfetto cross di Kras E poi il forcing finale tanto generoso Quanto infruttuoso dell'Avezzano Che al novantacinquesimo con Di Massimo Manca però l'occasione del 2-1 Un pari dopo i primi 90 minuti stagionali Che alla fine può soddisfare sia Avezzano Che San Nicolò Attesi ad un campionato di alta classifica E vediamo i gol delle altre due partite Con le abruzzesi in campo Partiamo da Fano Giulianova Finita 3-1 per il Fano Match impari a livello di valori in campo Non è in gare come queste Che il Giulianova deve trovare i punti salvezza Fano subito in vantaggio Al quattordicesimo con Gucci Il raddoppio con questo euro goal Dell'ex terramano Borrelli Alla mezz'ora Il Giulianova accorce le distanze con Di Stefano Nella ripresa al minuto 14 Ma dopo pochi minuti Civilla, il bomber Civilla Ripristina le distanze per il 3-1 finale Andiamo a vedere ora i gol che hanno deciso La gara di Ascoli tra Monticelli e Amiternina Accade tutto nella ripresa Con il Monticelli che passa in vantaggio Un gol di Margarita L'ex lancianese Margarita Ex lanciano ed Ascoli Poi il pareggio di Torbidone Al 39esimo Al 42esimo Il gol partita di Aljevic Che qui abbiamo visto Raccogliendo una corta respinta Del portiere della miternina Schina Andiamo a chiudere la nostra rassegna stampa Vedendo un altro paio di pagine Intanto sul centro Quelle relative alla prima giornata di eccellenza Pigliacelli non perdona la vastesa Un errore nel disimpegno del portiere Cattafesta al 90esimo Spiega una strada alla vittoria del Pineto Molto equilibrio tra le due squadre Che puntano al salto di categoria Protagonista Il giovane Mazzocchetti Dunque il Pineto si impone 1-0 sulla vastese 1-1 Tra Montorio e Paterno Paterno che ha guante il pari Ma il Montorio non ci sta Proteste per il rigore concesso ai Marsicani Al 94esimo Nella foto il tecnico ospite Del Paterno Fabio Iodice Poi la Renato Curi-Angolana Delude Alba Adriatica Ringrazia Botta e risposta tra De Luca e Scrivani 1-1 Tra appunto l'Angolana Un'altra candidata alla vittoria finale E l'Alba Adriatica E poi la chiusura dei giochi del Mediterraneo Pescara 2015 Il gran finale all'ex Cofa I giochi nel segno dell'Italia 70 medaglia per gli azzurri Cerimonia conclusiva di due ore Con tutti gli atleti sul palco L'evento di tutti I partecipanti hanno stavolta sfilato Non divisi per squadra Ma mischiati Proprio per lanciare un messaggio di amicizia Tra i popoli La rivederci al 2018 La sede della prossima edizione Ancora da designare Mentre è stata già scelta La città algerina di Oran Per il 2021 Qui vediamo il medagliere 70 medaglie azzurre 33 d'oro 23 d'argento 14 di bronzo 27 medaglie per la Francia Di cui 13 d'oro E poi via via le altre Con la Grecia Terza nel medagliere E l'Algeria Al quarto posto 10 medaglie e 2 ori Per l'Algeria L'ultimo oro Arriva dal beach soccer Gol e spettacolo Nella finale vinta dagli azzurri Con l'Egitto Arena strapiena E alla fine tutti in campo Ad esultare Finisce qui Dunque questa edizione Di mattino 6 Vi ricordo alle ore 14 Alle ore 19 Le due edizioni del TG6 E poi questa sera Replay di Enrico Rocchi Che ovviamente Si concentrerà Sulla disfatta Del Pescara Nella prima giornata Di campionato A Livorno E ci si proietterà poi Sul match Di venerdì L'anticipo Della seconda giornata Di campionato All'Atletico Cornacchia Contro il Perugia Grazie a Gianni Nareo In regia E grazie a voi Che ci avete seguito Buona giornata Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti